Dopo aver trovato il Pinayor due caritole, finalmente sono riuscito a trovarne uno, un pochetto rosicchia da un topo, però meglio di niente c'è veramente tanta gente che è venuta Vabbè dai, non è male, un pochettino rosicchiato però, bello, guardate come i topi se lo sono ho mangiato tutto, guardate che roba, distrutta, distrutta, speriamo di trovare qualcos'altro, magari non ha demolito così dai topi, guardate ecco un altro tutto distrutto, mi ha lasciato solo più la gamba, però almeno qui ce n'è uno, questi si che vanno bene da mettere sotto, non voglio farlo saltare via perché è molto ripido, poi stiamo qua, li prendo perché per una settimana, qua non vengo più, e poi i topi fanno una strage, una strage, anche qua guardate, questo qua è fresco fresco, ma è già, è già stato morso dei topi, anche questo, sono incredibili i topi, incredibili, e poi c'è quello lì, un po' più grosso, anche lui chiaramente è stato visitato dei topi, ma ormai non ci stupiamo più, eccolo qui, ah bello, bello bello, un bel moretto, meno male che qualcosa inizia a uscire, dovevo andare più in alto, dove la gente non va, guardate la meraviglia di questo fungo, la bellezza di questo fungo, la perfezione, perfetta, è un vero peccato, non c'è solo più la gamba, che vabbè, prendo perché tanto è buono lo stesso, ma chissà che fungo era, è stato un capriolo, mi sa, una terza dimensione della gamba, un vero peccato, un vero, vero peccato, allora, buongiorno, secondo, diciamo, seconda parte di video, perché il primo pezzo era ieri, quello di ieri, 18 giugno, oggi è 19, e questo è il primo pezzo. Ho appena fatto, diciamo, la intro, tra virgolette, e ho visto subito il primo, si scappotta immediatamente appena entrato nel bosco, questo può essere un buon segno, nonostante sia passata molta gente, si trova, guardate che bello, vediamo se è stato, no, è durissimo, perché ha piovuto molto la scorsa notte, diciamo che la pioggia ha dato i suoi frutti, guardate lì che ne è stato levato uno probabilmente ieri, eccolo qua, un bell'estatino, un bell'estatino, vediamo di continuare così, ma dopo, purtroppo è passata davvero tanta gente, e qua il posto non è grosso, quindi bene o male lo si gira quasi tutto, per fortuna qualcuno, uscito stanotte, è comunque piccolo, c'è, per mia fortuna, poi dopo andiamo a vedere se mia madre ha trovato qualcosa, tra persone che passano, topi e lumache, oggi è veramente dura eh, anche questa, guardate che fungo sarebbe stato, mi hanno tutto, tutto rosicchiato, vedete che fungo, che fungo era, mi hanno tutto rosicchiato, finalmente uno, un po' bello, vai levalo ma, ecco, bello, perfetto, facciamo qui, un po' bello, si, peccato si è leggermente mangiato sopra, però, però, bello, si, un'estatino, guarda sono andati a mangiare anche, guarda che buco che c'è, però, bello pesante anche, e beh dai, non male, per l'articolo, come un'estate a capire, un'estate a capire, è tutto,